Oggi siamo di nuovo qui con la rischia giusto come avevo detto il video non ha superato 5 mi piace ma lo facciamo lo stesso però abbiamo di nuovo il rischio giusto due bustine e poi non ce l'avevano più le dita e quindi siamo tre di queste cose penso che siamo la stessa cosa allora da che cominciamo ci apre tutto questo qui si fa proprio questo qua di qua e questo qua di là allora con quale iniziamo questo qui le voglio iniziare quindi l'occhio allora no questo qui si dicono la piccola no questo qua più figli si dicono queste cacate si apre tutte insieme che ormai tanto stanno uguali no che bello ci sono pure i giocattolini prendo un bicchiere un bicchiere d'acqua no un bicchiere d'acqua no un bicchiere d'acqua non l'acqua per l'acqua per l'acqua inizio no questa no ma le faccio i giocattoli? sii questi sono troppo difficili per te però le facciamo le stesse le faccio le stesse caramella nera matta l'utilizzo è tutto questo lento ma con questo qui non c'è bisogno per gioco non c'è bisogno 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 noooo nooo ma questa ti assomiglia a un che cosa ti assomiglia allora sul nostro aypm capitano scienziato pazio che si nasconde in una torre e maleodorante. I suoi spavimenti invadono spesso il villaggio di fumi purtolenti e vicili liquami. Ma ultimamente è successa una cosa nuova. Corbitt si è innamorato di Adeline e per questo insieme al suo cane di Pezza, animato di nome Nano, si è messo in testa di creare delle caramelle per conquistarla. Ci riuscirà? Scoprilo! Assaggiando le caramelle le caramelle che Corbitt ha creato insieme al suo cane e poi visto che dice col suo cane mi sa che saranno tutte abbastanza schifose perché qui c'è il cane con tutto il vomito intorno. Stessa storia di qua penso. Però queste qui sono americane, l'hanno inventato prima in America e queste invece sono italiane. Siamo a posto. Eh ma se le ha fatte sotto il governo di Trump mi sa che qui si muore. Un aiuto. Con la maglietta di Zelda. Troppo fiera. Lui con il cappellino popo swag. Adesso assaggieremo tutto. Ciao. Ricotte. Pesca vai. Ma che figo c'è pure quello lì? Ma vai. L'ha preso una bianca ha preso. Allora devo capire la bianca. Dopo il tocco a te. Aspetta dobbiamo vedere che è. Aspetta aspetta. Ah c'è lì. Eh tui foglietti è. Allora è caramella bianca matta. Mela o aglio? Aglio. Oh Cristo. Ah Cristina da Mela. Cioè abbiamo un zecchio o dobbiamo per forza mangiarla. Proviamo a mangiarla. Però ma che questo no 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 che è l'altro dai dai ah no no guarda no pure lui è triste senti questa è cipolla senti l'odore questo mi sa che mela mi sa 3, 2, 1 3, 2, 1 facciamo una made in che chi lo mangia prende il punto no la facciamo soltanto tocca al tempo questo magia si sente male tutte e due l'insetto della sfortuna siamo messi male su su anzi faremo due video a parte uno per quelli e uno per questi quindi spollisciate per vedere quest'altro eh mi sono preso questa down eh io mi sono guarda guarda io guarda io metto a fuoco aspetta vediamo che che schifo vediamo che è schifo moro o broccolo no è il broccolo vabbè 3, 2, 1 è il broccolo io sono decisa però fa schifo se la mola fa schifo io sono decisa è mora è mora è mora la mia è mora quanto fa schifo la mora ti giuro faceva schifissimo allora fa schifo te due no la mia è la vita si comincia male questa schifissima tocca a me non c'è che ci può essere schifo con schifo ci si deve tirare le cappate rosa prendi il rosa non c'è ragazzi no che è lo stesso però certo c'è un rosa rosa questa è buona la sento si si ti giuro invece è tutto schifo fragola frutto marcia questa è fragola spero fragola fragola non mi c'è la testa ti giuro non capisco ma non mi c'è la testa voglio la mamma io smettere questa challenge col cazzo le views o views vai vai provate le tue due views al giorno a video si non pensate male ma che schifo ma che schifo che è sta merda per te lo calamaro il calamaro fra me il calamaro dipende se è cotto o comunque calamaro ti giuro no lo prego il calamaro ti sento male mi è calma ti vede se è crudo o cotto il gran biscotto com'era calamaro calamaro no 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 ho un pezzo ho un pezzo così buona la mia è buona la mia è buona dammi la buona dai il culo mamma no 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 raga questa è la pentitura no no la mia è buona ce la fa ti giuro facciamole rischio al gusto anzi vediamo questo video qua e poi faremo un'altra parte allora in queste in queste c'è pure il sigaro puzzolente c'è e la cacchetta di piccione pustola odorosa che non si sa mutanda pisciosa muffa putrida sigaro puzzolente cacchetta di piccione e cattaro sputacchiato che potrai non avrei luce vabbè io concludiamo questo video qua queste qui proprio si potrebbero pure buttare dalla finestra insomma va bene aspetta un fatto sbuzziamole mettiamole sono radioattive non le comprate ma le ho tutte brutte no una l'ho presa bene che era la mora però mi faceva pure schifo quella ma era buona il mirtillo vabbè quella blu era buona eh per me no però è la peggiore concludiamo qua questo video concludiamo qua questo video un saluto siglos a tutti ciao